ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi oggi sono in vena di fare video e oggi il secondo video della giornata parliamo di auto elettriche ragazzi la problematica oggi che tanti di noi stanno vivendo perché anche io ragazzi stavo valutando di cambiare l'auto o meglio acquistare un'altra auto però ragazzi mi ritrovo in una posizione molto molto scomoda perché allora benzina diesel gas in generale che sia gpl che sia metano o eventualmente in hybrid ok ibrida poi ce ne sono tante diverse come ibrido mid hybrid full hybrid eccetera hybrid eccetera eccetera e poi andiamo all'elettrica cioè oggi ragazzi c'è una confusione con queste tipologie di auto vetture che non si sa ragazzi su quale puntare ma anche perché allora il prezzo del carburante è salito tantissimo e continuerà a salire il prezzo della dell'energia elettrica sta salendo tantissimo e non si sa come andrà a finire e da qui a poco le diesel saranno escluse dal commercio non si venderanno più non si commerceranno più e sarai obbligato a venderti la tua vettura diesel dal 2032 33 stop a combustione avanti elettrico perciò ragazzi gli elettrici full elettrico oggi costano un botto 40 mila 50 mila 60 mila 70 mila 80 mila la più economica ragazzi che si può riuscire a prendere che mi sono fatto fare un preventivo era la dacia spring elettrica però ragazzi me la tavola un prezzo eccezionale ragazzi ero arrivato a usufruire di incentivi rotazione ragazza circa 13 mila euro che non ci credevo neanche io a quel prezzo una full electric mamma mia però ragazzi non l'ho presa non l'ho presa perché numero uno non cerco un'auto che mi serva solo come auto cittadina un'auto per brevi tragitti io cerco qualcosa in più mi piacerebbe un bel suv ok e lì siamo tanto 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 più alti se invece fosse stata una necessità di un'auto a scopo cittadino vai fai la spesa vai qui vai lì brevi tragitti ma perché ragazzi perché questa dacia come autonomia aveva forse 200 chilometri comunque poco 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 ragazzi era un problema a quest'ora io vi collego un'altra cosa come possiamo noi oggi andare a sceglierci l'auto con tutte queste problematiche cioè ragazzi io sono fermo ok io mi sono mi sono predetto di non fare movimenti perché se la prendi elettrica e non si sa come va a finire almeno che non riesco sempre a sfruttare il mio fotovoltaico a ricaricarmela ricaricarla in colonnina mi costerebbe quasi quanto ricaricare una benzina un diesel leggo ragazzi sui vari forum sui vari siti online e gente che si lamenta gente che hanno tesla che hanno volkswagen che hanno brand elettrici full electric che gli stanno aumentando le quote di energia in una maniera ragazzi smisurata prima potevano fare con 20 euro un pieno ora sono arrivati ad oltre 50 55 60 euro un pieno ragazzi stiamo parlando un elettrico quando una volta un kilowattora costava 10 centesimi al massimo 15 centesimi al massimo inclusivo di tasse ora si parla di oltre 70 80 90 in alcune colonnine anche più almeno che non ti fai un abbonamento ti danno dei buoni promozionali entri a far parte di una cerchia che comunque troppo casino ragazzi e poi un domani non si sa se vanno a levare questi sconti quanto ti costerà una ricarica quanto un auto diesel benzina allora la cosa è questa il mio la mia idea principale era quella di sfruttare il mio impianto solare fotovoltaico che sappiate voi io un impianto auto costruito ok è uno free da circa 6 kilowatt p come pannelli attualmente 15 kilowatt ora come batteria e 11 kilowatt massimo come potenza l'uscita degli inverter bene considerando questo la mia idea è sempre stata quella di acquistare un'auto elettrica e ricaricarmela con i miei pannelli col mio impianto fotovoltaico però ragazzi a che pro o meglio oggi costano davvero davvero tanto se vado a fare un passo ok verso una vettura che a me piace che può piacere ragazzi poi devo essere certo che riesco a ricaricarla incompleto col mio impianto fotovoltaico perché sennò così non abbatto i costi perché se devo andare alla colonnina a ricaricare la vettura e già lì non mi conviene più perché somma quanto speso per acquistarla mettiamo il caso 60 mila euro ok metti che devo pagarmi anche il pieno di energia quei 15 20 30 40 50 60 in base a quanto uno riesce ragazzi e quando te la ripaghi questa auto elettrica poi ci sono anche le problematiche tempistiche di ricarica dentro casa un garage ovviamente non avrai un fast charge cioè non potrai ricaricare la vettura in un'oretta in un'oretta e mezza ma la ricaricherà in 3 4 barra 5 ore in base alla tua colonnina di